Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video Come ho detto il titolo, oggi Puntino tattico Oggi con noi abbiamo Cosa ho trovato ragazzi, cioè guardate Si chiama tipo MegaForge, tipo, però con la Cino Con la G Bellissimo, cioè è troppo bello Ancora non l'ho provato quindi non so come si sente Precia il penne Io direi di iniziare Da aprirla Scusate io Devo fare lo spuntino Perché me frega, scusate Tranquillo, come se Ecco Come se non fosse in un video Tra l'altro questo video l'ha fatto pure Alle Clasher, però no così L'ho fatto con un'altra roba Tipo Dove mangiava il pane Vabbè vi metto le immagini qui a schermo Ne ve ne metto due avanti Bocco di Buone Mi metto il vuoto qua a schermo Di come sa Non lo so Sa tipo di Avete presente L'Energy Tipo quella specie di Red Bull fake Cioè Se tu togli le Drink È quella praticamente Cioè vi metto pure l'immagine della lattina Cioè è quella praticamente E' un bel sapore di quello Poi è stra buono Buonissimo Ah Tra l'altro Quante le mostre mi saliamo Ve le faccio vedere Vabbè C'è una lattina Questa cosa è Ecco Che non è mostre però È bella Quella del video Non ve l'ho perso Lascio qua Nelle schede O qua O qua Nelle schede Ti vedo Lascio pure l'immagine E il link in descrizione Che è stra bello Ve lo farei Ve le faccio vedere va Giù le Red Bull Che avrò adesso C'è solo questa Tutte le monster Che come adesso ho preso Borghud Questo ci lascia ovviamente E basta Vabbè Andiamo a metterci questa Ve la faccio vedere Andiamo a mettere Qua Per adesso Che è più ovviamente Lo sposterò da qualche parte Appena ne prenderò altre monster Spero che vi piacciono Io penso che vi lascerò Essendo che la fotocamera Non la posso girare Quindi Guardatevi la clip Buon 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 no è tipo buonissima e poi non è costata nulla quando è costata quella crostata a questo punto ho scritto con tutto quello che è costata quella crostata e guardando ho notato che costata e crostata hanno di differenza solo una lettera e questo per me è incredibile cioè va bene che uno più uno fa due ma questa è una scoperta pazzesca penso 70 no 70 centesimi penso non me lo ricordo non mi pagano ma lo faccio dare perché mi piace non mi pagano buonissima signor balocco buonissima signor balocco la piccetta è troppo buona la dottima non vi avendo fate il migliopero gustate nei commenti se volete altri video del genere ho 15 like per il content questo si chiama content per venire la fame all'agenda e se non riusciamo a arrivare gli eventi la prossima volta con red doritos se la trovo la lattina di questa qua con la blu che sarebbe tipo zero zuccheri non mi ricordo ma qualcos'altro vedremo quando goddio non fu cagli andrò anzima alla ucce alle altre ce ne sono tantissime mia madre mi ha detto che qualche volta me le butta tutte non mi ha detto non le metto due metto questo ci vediamo al prossimo video Cioè, mi iscrivetevi al canale, mi raccomando che vi guardo.